ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi siamo qui con un bellissimo gioco per android che si chiama real moto è un gioco dedicato alle moto e adesso andremo subito a provarlo eccoci qui come potete vedere non abbiamo subito una moto ma bensì un motorino ma ovviamente vincendo le gare e ottenendo monete potremmo acquistare delle moto vere e proprie come possiamo vedere qui nel negozio eccole qui ovviamente le moto per la prima moto costa 20.000 crediti e poi via via tutte le altre sono tutte moto che ovviamente più costano e più sono potenti ok adesso torniamo nel menu principale e poi direi che adesso andiamo subito a fare una gara eccoci qua pronti eccoci siamo pronti ad iniziare questa nostra prima gara ed eccoci qui inizia questa gara partivamo dalla decima posizione e adesso alla prima curva siamo già primi attenzione sono un po uscito largo ovviamente c'è grande bagarre e torniamo primi bene così questa qui è una curva difficile infatti l'abbiamo pesa troppo larga e ci sorpassano peccato ci sorpassano quasi tutti comunque dobbiamo mantenere quantomeno la scia intanto siamo ottavi e finisce il primo giro iniziamo il secondo giro tentiamo di recuperare dai sono sesto ma quelli davanti non sono neanche tanto lontani adesso sono quinto vediamo un po se riusciamo a raggiungerli stiamo andando abbastanza bene anche molto veloci dai attenzione rettilino finale siamo quinti tentiamo uno sprint e quarti purtroppo siamo arrivati soltanto quarti ma vabbè comunque come inizio non è da buttare continuiamo continuiamo direi che questo gioco è veramente fatto molto bene sia graficamente che come controlli e quindi direi che lo consiglierei a tutti gli appassionati di moto ma non soltanto comunque se vi è piaciuto questo video mettete un like mi raccomando e alla prossima ciao ciao ciao